vuole che gliela spieghi io la cosa com'è lo strumento è scordato la corda civile signora deve sapere che abbiamo tutti come tre corde d'orologio in testa la seria la civile e la pazza soprattutto dovendo vivere in società ci serve la civile per cui sta qua in mezzo alla fronte ci mangeremmo signora mia l'un l'altro come tanti cani arrabbiati non si può io mi mangerei per modo ad esempio il signor fifì non si può e che faccio allora do una giratina così alla corda civile gli vado innanzi con cera sorridente la mano protesa o quanto mi è grato vedervi caro signor fifì capisce signora ma può venire il momento che le acque si intorbidano e allora io cerco prima di girare qua la corda seria per chiarire rimettere le cose a posto dare le mie ragioni dire 4 e 4 8 senza tante storie quello che devo che se poi non mi riesci in nessun modo sferro signora la corda pazza perdo la vista degli occhi e non so più quello che faccio e non so più quello che faccio e non so più quello che faccio